Al mio tre vi farò una imitazione di Francesco Boni, questo famoso personaggio televisivo che si poteva vedere anni fa sul telemarket, questa emittente televisiva che si occupa di parlare di arte. Questo è un video di ammirazione, di stima, di rispetto, non di diffamazione, non di offesa, va bene? Perché a me questo personaggio mi è sempre stato molto simpatico e l'ho sempre trovato una persona piacevole, molto colta e quindi molto istruita. Uno, due, tre, via. Signori cari, abbiamo qui davanti a noi oggi un quadro di cui vale veramente la pena non parlarne. Un quadro di quelli unici Un quadro di quelli aulici Un quadro di quelli che non può non essere presente nelle vostre case Un quadro di quelli veramente straordinari Un quadro di quelli che non possono non essere presenti nelle vostre case Un quadro di quelli che non possono veramente mancare Un quadro di quelli veramente straordinari Uno di quelli che non possono mancare in una casa che si rispetti Uno di quelli capolavori Uno di quelli capolavori Che non possono davvero mancare Colline con girasoli dietro Un quadro davvero epico Un quadro speciale Uno di quelli che veramente ha tanto da offrire a livello umano Uno di quelli che veramente è Osservate, osservate le colline Osservate i contorni Osservate le forme Osservate le sfumature Del quadro in questione Osservate tutte le sfumature di questo capolavoro Assolutamente meraviglioso Un quadro opera d'arte Ma vi sfido io signori cari Ma vi sfido io signori cari A non avere un capolavoro come questo Guardatelo, guardatelo Guardatelo Non può non essere presente Nelle vostre auliche case Fatelo entrare nelle vostre menti Guardate le perfezioni delle forme Guardate come sono perfette Guardate infine i contorni come sono ben accentuati Io dico Guardate e apprezzate questa divina opera d'arte E non lascio speranza risorta E un Picasso come questo non può mancare Riflettete E lasciatevi trasportare E idealmente parlando E da quella voglia di trovarvi idealmente parlando Dentro a questa opera d'arte E vi sfido a non averlo a casa E non aggiungo altro E una buona serata a voi tutti E alla prossima trasmissione E una buona serata Ecco questa è un'imitazione Ovviamente è un'imitazione piacevole Ripeto è un omaggio Non è una diffamazione Non è un'offesa Non è una minaccia Non è qualcosa che va a ridicolizzare O a prendere in giro Il signor Francesco Boni Persona che apprezzo Che ammiro Che stimo E che trovo essere Un grande critico d'arte Detto ciò Grazie a tutti Il video termina qua Un saluto a Francesco Boni Al signor Francesco Boni Un saluto a Leandro Conoscitore italiano di Youtube Italia Grazie a tutti